mamma io ho preso tutti questi questi margheriti per chi per te per te sto andando a trovare le margheriti ma non ci sono sono finte ma per chi le prendi france o per chi le stai prendendo tutto quel mazzetto a ecco saluta la mamma che tra un po la vedi e ciao 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 andando un bacio ciao bacio butta bacio te laura invece di mangiare il palo butta bacio anche la laura brava brava la laura come ha fatto non va bene non va bene laura cammina così come cammina perché cammina così bracci è un po ruzzolata è un po ruzzolata ecco a sedere no non è vero è stanca attento francesca sta ruzzolando piano